Molto delineato, bianco, sta recistando. Questa mi sta raccontando della sua barba, che dice che ha la barba bianca, perché è vecchio in realtà, capito? È vecchio. Sono vecchio? Non è che ho la barba bianca e basta? Mi fa, oh, qua la barba bianca, poi intorno la barba nera. Sembra che la dipingo. È giuventino, perciò. Giuventino, ragazzi. Un giuventino e un fiorentino. È della fiorentina. Salernitana. Ricordi la Salernitana? No, ragazzi, mi piace il calcio, quindi... È della fiorentina. Ragazzi, siamo qui per... Dio, tu, Cristian, che famo, che famo. Unboxing, unboxing. Unboxing, unboxing. I tre orologi. Qua ci sono tre orologi. Che, qua non è che abbiamo vinto la lotteria. Che freccia, che spacca tutto, fra... Spacca tutto. Siamo venuti a un bar a prendere un caffè, stiamo facendo l'unboxing qui al bar, stanno chiudendo, stanno aspettando che noi facciamo l'unboxing. E io mi fai il tè, e tu mi sono fissato. Spiega, spiega, spiega. Allora, no, niente, allora, ragazzi, tutto qua. Abbiamo deciso di tornare un po' sul brand in Vostok, però questa volta abbiamo comprato dei comandischi. Esatto. Abbiamo trovato un sito dove sono addirittura ancora più economici che Zoom erano. E... Adesso, io lo tengo e tu lo spacchiamo. Eccolo qua. Adesso vi spieghiamo subito perché tre, perché vogliamo portare un po' delle novità sul canale. Ha un senso che siano tre, eh? E qui sono i tre comandischi. Ma facciamo una cosa, facciamoli vedere questi comandischi. Dai, se tanto le nostre facce non mi interessa immagino vederle. Ok, e qui sono i tre comandischi. Iniziamo ad aprire il primo. C'erano anch'io, ragazzi. La defa, la defa, eh? Bello. Oh, bello, questo è quello che hai scelto per te, eh? No, questo... Oh, sì. Buono, mi ricordo. Fai vedere gli altri, guardate. Guardate che carino, ragazzi. Iniziate a fare vedere questo e l'ho provato da sotto. Abbiamo preso tutte e tre condate. Poi vi spiegheremo perché l'abbiamo preso tutte e tre condate. Anche qui ha una sua spiegazione. Questo vi faccio vedere adesso l'ho scelto io, l'ho scelto. Forse è meglio, lo tappiamo. Boom. Ma no. Dai, è troppo bello. È così bello come io la mattina quando mi sveglio tutto spettinato. Oh, ragazzi, a me piace. Dai, buon comandischi. Dai, la verità è che ora vi diciamo i prezzi. Sono venuti veramente comici. Eh, veramente comici. Sì, sì, comici. Il prezzo era comico, era comico. Sono veramente economici e ho voluto prendere qualcosa un po' di diverso rispetto al classico orologio, dai. E niente, mi è piaciuto questo con la bandiera rossa e con i MIG. Siamo a vedere bene. Guardate. Carino. Dai, non è male. È carino. È brutto, però è carino. No, no, dai, è carino. Dai, ci sta. E qua c'è il terzo orologio. Eccolo qua. Questo l'ho scelto io. Ah, questo è quello che hai scelto tu. Ok, vale per te. Ma sì, è uguale. Vediamo qua. Bene, bene, bene. Bene, bene, sono assolutamente un po', 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 sono assolutamente un po'. Brutti sono brutti tutti e tre, però sono bellissimi. Bellissimi, spettacolari. Ma vedi, questi qua sono i classici orologi, invece questo fa la differenza, ragazzi. Beh sì. Ma se ti fermano per i saldi, che no, ma che orologio è bellissimo. È bello, sì. Fantastico. No, dai, sono belli, sono tutte e tre belli, veramente. Sinceramente parlando, sì, sono belli. Poi sono posto, dai, i comandirski, i comandanti, belli, belli veramente. Dai, carini. Niente, spieghiamo qui, ragazzi, giriamo la camera e vi speriamo una cosina veloce veloce, ok? Allora, vi spieghiamo perché abbiamo preso tre comandirski, perché non uno, ne due, ma tre. Quindi, uno dei comandirski lo terrò io, perché mi piace, mi piace, quindi lo terrò io. L'altro comandirski, il terzo comandirski, invece, ve lo diremo, ma sul nostro canale di Instagram. Sarà una piccola sorpresa, la prima sorpresa di tante che abbiamo intenzione di portare sul canale. Quindi, se ancora non ci seguite su Instagram, è ora di farlo. Andate subito, andate subito su Instagram. Sì. Vi aspettiamo, aspettiamo? Fatto? Ok. Adesso ragioniamo. Quindi, niente, ragazzi, su Instagram inizieranno ad arrivare tutte le novità. Comunque, questi orologi, faremo una recensione di tutti e tre orologi insieme, molto veloce, anche su YouTube, dove rinnoveremo questa richiesta di iscrivervi su Instagram. E dai, sarà una piccola sorpresa, con questo modello, una piccola sorpresa, però sperando che nel corso dei mesi e degli anni saranno sempre più grandi. Quello è l'obiettivo del nostro canale. Quindi andate su Instagram e scoprirete, perché se non fermo Chris, alla fine ve lo dice. Quindi andate su Instagram e scoprirete cosa faremo col terzo orologio, ok? Niente, salutiamo. Sì. Qui il mio tisso Viso Day, con cento meno racing oggi, e tu... E il maestro. Oh, che bello. Oh, io maestro. Niente, amici, qui il fratellone e io vi salutiamo e niente, ci vediamo alla prossima. Un abbraccio ragazzi e alla prossima. Grazie. Ciao. 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 Grazie a tutti.